Parliamo adesso dell'impossibilità di portare avanti le cure radioterapiche all'oncologico di Cagliari. Abbiamo sentito anche il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Siamo qui con Gianfranco Angioni dell'Unione Sindacale di Base per la protesta odierna nei confronti di una situazione ormai ingestibile dell'oncologico qui a Cagliari. L'ospedale oncologico vive un disastro sotto tutti gli aspetti tecnologici, strutturali, logistici e organizzativi. È impensabile che si possa rimodernizzare un ospedale con nuove apparecchiature e privare il diritto alle cure ai pazienti oncologici che hanno necessità di essere curati nell'immediato. Sono anni che noi chiediamo che vengano fatte assunzioni di massa, quindi assunzioni di personale, che venga rinnovato tutto il pacco tecnologico, ma di tutto l'ospedale, non solo della radioterapia. Ci possono essere soluzioni nell'immediato? Perché ci hanno parlato di possibilità nell'ospedale di Nuoro o probabilmente anche a Materolbia. Possono esserci nell'immediato, oltre alla battaglia che potrà essere fatta nei confronti della politica che non attua a quello che dovrebbe attuare? Una risoluzione immediata? Perché il paziente, come avete detto, il cancro non va in vacanza e il paziente ha necessità di cure immediate. Intanto sì, la soluzione c'è. Si rimettono in moto tutte le macchine che sono disponibili all'interno dell'ospedale, si crea una cabina di regia e in questa fase di transizione di queste apparecchiature poi si disegna lo scenario per le cure.